My Generation, il mondo che cambia. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini. Randaggio è il titolo del libro di Fulvio Valbusa, campione di sci di fondo mai dimenticato. Ne vediamo la copertina. È un'autobiografia che è Fulvio scritto a quattro mani con Serena Marchi. Il racconto di una vita, la vita di uno dei più forti fondisti di sempre, dalla nascita in quella famiglia nel cuore della Lessinia, fino poi ai traguardi impensabili. I campionati italiani, la chiamata poi nella forestale, la consacrazione alle Olimpiadi di Torino con la medaglia d'oro si era nel 2006, sembra mille anni fa, ma forse l'epoca è appena l'idea. E comunque tutti gli sportivi ce l'hanno ancora nel cuore. C'è anche un dopo però, che è l'addio al mondo dello sci, un nuovo obiettivo che un poco rivoluziona tutta la sua vita e che adesso proprio Fulvio ci racconterà. Perché Fulvio Valbusa è in linea con noi. Mi fa invidia sapere dove sei. Immagino che sei nella tua zona di Bosco Chiesa Nuova, immagino. Ma è logico, logico che sono qui. Sono qua a casa mia, sono qua in mezzo a... perché io abito proprio in mezzo al bosco, in una casa in mezzo al verde, più verde che mai, perché sono in mezzo agli abiti, ai faggi, quindi praticamente sono proprio a Bosco Chiesa Nuova, inserito dentro un contesto boschivo. Allora vedi che noi ci siamo preparati, a te anch'io mi sono fatto circondare di verde oggi in tuo... Vedo, vedo che sei tutto pieno di verde, tutto pieno di verde. Senti Fulvio, allora voglio subito partire da quel titolo randaggio, perché credo che tutto ruoti attorno a questo tuo mondo, che sempre di più si è avvicinato al mondo di quel lupo che in copertina abbiamo ben visto. Dunque, randaggio che cosa significa e perché hai voluto scrivere un libro al proposito? Ma ho voluto scrivere, ho voluto, guarda, questo libro è nato quasi per caso, nel senso che io subito questo libro non volevo scriverlo, ma dopo con un'intervista che fece appunto Serena Marchi, che scriveva per l'Arena in una specie di rubrica che aveva lei degli sportivi veronesi, mi fece pensare un po'. Lei mi, tra virgolette, stonchierizzò per un anno e mezzo perché dopo questa intervista mi disse «Nella tua storia c'è un libro», sai, non è che è così semplice scrivere un libro, una biografia sportiva è una cosa, il libro che prende il titolo randaggio è un'altra cosa. Chi si aspetta una biografia sportiva nel libro resterà deluso, perché di sport dentro nel libro c'è poco, c'è la mia vita, c'è la mia vita da quando sono nato, c'è la mia vita fino a pochi anni fa. Quindi il titolo è nato strada facendo, è nato perché Serena Marchi è stata lei a dare questo titolo, si è resa conto che aveva a che fare veramente con un randaggio, una persona che non sta mai bene nello stesso posto, nello stesso tempo si trova bene ovunque, perché io veramente mi trovo bene ovunque, ma in quell'ovunque la parte fondamentale che dovevo avere in quell'ovunque, e mi ripeto ancora, era il bosco. Senti, io due domande debbo farti, dopo entriamo nel merito e ululeremo insieme, caro Fuglio. La prima domanda è questa, come ha fatto un ragazzo delle montagne veronesi a diventare uno dei più forti fondisti di sempre? Credo che non sia difficile da dire, ma come ha fatto quel ragazzo a reinventarsi una vita dopo che ha smesso di gareggiare? Questa è la vera domanda. È una domanda che mi viene fatta dopo, i tanti lettori che leggono il libro ci rimangono, tra virgolette, molto colpiti per come è iniziata sia la mia carriera sportiva e sia rinata la mia vita dopo aver appeso l'iscia al chiodo. È successo tutto, ti ripeto, per caso. Anche la vita sportiva è nata da un dolore, come hai letto nel libro, da un dolore fortissimo. La tradizione a bosco dello sci di fondo c'era, ma un conto è sciare per divertimento, un conto è intraprendere una strada da professionista. E qui veramente è stato un grande dolore che bisogna dire che mi ha aiutato tantissimo. Me lo sono portato con me vent'anni e questo essere, praticamente avermi coccolato questo, come posso definirlo, questo sentimento così crudo mi ha probabilmente stato il segreto per farmi arrivare dove sono arrivato, a vincere ori mondiali, ori olimpici e tutto quello che ho vinto. Fulvio, perdonami, perché non rimanga niente sospeso, perché non è detto che tutti possano sapere, Fulvio si riferisce alla perdita del fratello gemello, Silvio, a 15 anni, che sicuramente ha segnato appunto la sua vita. Prego, Fulvio. Sì, come hai detto ben, il fratello gemello è un legame fortissimo, dove era lui, c'era anch'io, quando uno non c'era si sentiva la mancanza e viceversa, quando magari ti frequentavi troppo ti rompevi anche le scatole, però era un rompere le scatole che se non c'era era necessario, era necessario anche questo. E quindi questo dolore, dopo aver perso il mio gemello a 15 anni e aver visto quanto ha sofferto nel portarsi avanti questa malattia, che è stata tremenda, mi ha segnato, mi ha segnato e mi ha ricostruito, mi ha fatto capire che, prima di tutto, la fatica sportiva, la fatica non esiste. Per me la fatica non esisteva, infatti tante gare, se ricordi, mi sono giocato anche dei campionati del mondo all'ultimo chilometro, scoppiando per pista, proprio barcollando e non arrivando neanche al traguardo perché arrivavo troppo oltre il limite. Era portato appunto a questo mio essere sempre a tutta e non saperne del dolore. Ecco, questo è stato il segreto positivo e negativo di tutto questo. Però tu dici, Pulvio, perdi soltanto quando ti arrendi e arrenderti non è certo nelle tue corde, credo. No, allora, questo è stato un po' il mio mantra, il mio mantra in tutta la mia vita ancora adesso, dopo aver attaccato l'iscia al chiodo, praticamente me lo porto sempre con me. Ci sono momenti bui, ho passato momenti veramente bui della mia vita, ma sono riuscito sempre aggrappandomi a questa frase, a questo volere, non arrendersi mai e di conseguenza non parli mai perché quando non ti arrendi di conseguenza non viene fuori la sconfitta. Ecco, perché... Fulvio, allora, il dopo comincia praticamente nel 2008, se ho letto bene nelle tue pagine, raggiungi la vetta, la impensabile, ma fortificata da tanta cocciutaggine, rigore, professionalità quali tu hai e torni là da dove tutto era iniziato, a Bosco, tra le tue montagne e fai la guardia forestale. Ecco, è un'altra vita o è una vita che continua? Allora, sono tornato alle origini, nel senso che mio padre faceva il guardia caccia, era sempre in mezzo alla natura, io spesso e volentieri da piccino mi aggregavo, mi attaccavo ai suoi pantaloni, andavo con lui ed era veramente affascinante, era bellissimo anche perché forse erano a questo lavoro da grandi che così affascinava immerso in mezzo alla natura. Tornato alle origini perché? Perché quando ho smesso di sciare cosa è successo? Mi sono ritrovato a fare la guardia forestale un lavoro bellissimo, ripeto, a contatto con gli animali, la natura e quello che ci circonda di vero, di sano ed è ancora puro e me ne sono innamorato ed è successo un fatto pazzesco perché all'interno del mio lavoro è successo probabilmente questa cosa che assolutamente probabilmente era il destino che doveva accadere ed è successo l'incontro vado avanti No, no, ma su qualche aspetto su qualche aspetto che dici da parola magica ho detto che dobbiamo ululare un poco insieme prego, prego è stato un incontro con nessun bipede è stato un incontro con un quadrupede un animale molto discusso che quando torna su un territorio fa tanto rumore fa tanto preoccupare fa anche paura inutilmente perché il lupo stiamo parlando del lupo quel giorno come lo ritrovai davanti a dieci metri e mi fissò negli occhi con quelle pupille gialle capì che dovevo essere come lui nel senso lui è da quando è nato da quando è su questa terra che si comporta sempre nella medesima maniera non ha mai cambiato abitudini non ha mai cambiato tipo di comportamento si comporta semplicemente da lupo lui vive caccia per vivere e questa cosa qua mi ha drogato mi ha portato giù proprio con lui nell'essere veramente un nell'essere se stessi al punto fulvio al punto fulvio che qualcuno dice che i lupi li hai portati tu nuovamente tra i monti veronesi e sulla lesilia ma certo dopo 150 anni hanno fatto la loro riapparizione dunque cosa c'è di vero ma cosa c'è di vero più che altro che la gente ormai si può informare perché abbiamo tutti i mezzi possibili per informarci quindi guardiamo cosa sta succedendo anche in montagna lo spopolamento della montagna l'avanzamento del bosco che sì è una cosa positiva ma una cosa anche che dobbiamo fare i conti cosa vuol dire il ritorno del bosco magari dove non esisteva dove era stato per far largo ai pascoli quando torna il bosco tornano gli animali selvatici dal capriolo al cervo quando tornano tutti questi animali selvatici tornano anche quelli che sono i regolatori naturali i regolatori naturali della fauna selvatica non siamo noi sono gli animali selvatici i grandi carnivori cosiddetti cioè lupo orso lince il lupo è apparso nel 2012 in Lessinia cosa vuol dire è una cosa bellissima perché io la vedo da questo profilo nel profilo da forestale qualcuno forse lo vedrà differentemente ma bisogna dire che la biodiversità del territorio lessinico era perfetta perché ha accolto questo animale probabilmente perché era ora che arrivasse è arrivato si è stabilizzato ha figliato più di un anno perché ormai siamo siamo non ormai siamo la nona cucciolata della coppia capostipite della Lessinia e ha fatto veramente hanno fatto tanti cuccioli che ormai sono andati in dispersione e non portati ricordiamoli non sono stati portati fanno quest'opera di dispersione il lupo quando è adulto va a conquistare nuovi territori i lupi in Lessinia tutto è andato bene perdonami se ti interrompo ma ho paura che il tempo ci scorra via senza che ti ponga una domanda che è chiave tutto è andato bene fino a quando quel lupo ha iniziato a sbaranargli gli altri animali cioè è tornato a fare il lupo come tu ci insegni ecco a quel punto lì è scattata in tutti uno strano odio amore perché prima invece il ritorno del lupo era stato visto quasi come una felice benedizione perché cosa è scattato dopo anche nella gente nei tuoi compaesani ma allora in me è scattato la volontà più come posso dire più viscerale di seguire questo animale di affrontare questo tra virgolette problema perché mi sono messo nei panni degli elevatori gli elevatori si trovano ad avere a che fare con un animale che era scomparso da 150 anni quindi si trovano ad avere a che fare con un animale che non mangia erba non è vegano e mangia carne il lupo è un animale molto furbo ed è opportunista quindi piuttosto di correre dietro a un capriolo si sa mangia un animale domestico che è meno veloce e di conseguenza se ripeto siamo la specie e continuo a dirlo la specie più evoluta su questo pianeta dovremmo anche dimostrarlo ogni tanto di esserlo quindi dobbiamo trovare i mezzi e ci sono per difenderci e di provare e cercare di convivere con questi predatori ce la faremo secondo te sarà possibile farcela perché tu ti stai dedicando a questo che è diventato anche un progetto non solo uno scopo di vita ma anche un progetto ce la farei te? ma io te lo dico con un sorriso assolutamente sì ce la faremo perché ci sarà un po' di impatto che è molto duro e crudo con gli elevatori che si ribelleranno con le categorie che sono più colpite ma dopo ripeto siamo la specie più evoluta quindi dobbiamo arrivare a capire che con questo animale si può convivere e dobbiamo convivere perché altrimenti se si agisce sempre nel metodo di rimuoviamo abbattiamo buttiamo via praticamente tutto che la fauna selvatica la natura che ci circonda cosa siamo noi? le persone che possono decidere sulla natura? no no assolutissimamente no la natura ce lo sta insegnando negli ultimi periodi senti mi metto largo chiedo alla regia di inquadrarti e ti leggo questa frase con cui concludiamo tratta dal tuo randaggio e io mi ci riconosco per anni mi hanno cercato sannato voluto spesso anche criticato ma io sono io non posso essere quello che vogliono gli altri o cambiare perché me lo chiedono altro che lupo tu sei più di un lupo accanto a te c'è Silvio probabilmente che ti sta dando una mano o sbaglio? ma quello che ho riscoperto con un bel percorso che lui è sempre con me è probabilmente quello che mi fa capire che devo essere sempre me stesso e devo essere quello che io mi sento di essere e in questo caso mi sento di essere una persona normale sincera normale e voglio dire normale come possono essere ripeto i lupi che popolano non solo la Lessinia ma tutto il mondo facciamo vedere allora per concludere ancora lo chiedo alla regia la copertina del libro randaggio scritto a quattro mani da Fulvio Valbusa e dall'amica Serena Marchi ti ringrazio Fulvio è stata una boccata di grande ossigeno quella che ci hai dato ti invidio molto sapendo dove sei e auguro buona vita al tuo libro al tuo volume so cosa vuol dire scrivere un libro e sappiamo che è una creatura che adesso prende il via per le solite presentazioni abbine cura quindi certo che sì ne avrò proprio cura grazie ancora a presto buon lavoro a te a presto ciao Fulvio Valbusa dunque il suo randaggio l'abbiamo presentato con grande soddisfazione torneremo probabilmente a trattare il tema che Fulvio nel suo libro affronta che è il tema del rapporto con la natura in tante tantissime altre trasmissioni a proposito permettete che anche da questi microfoni sempre sulla nostra piattaforma vivox io vi ringrazio per l'ascolto che state dando all'altro nostro magazine che è Habitat e che viene pubblicato ogni settimana il sabato mattina beh grazie infinite per l'enorme piacere che mi fa aver visto con quanta fedeltà lo state seguendo a presto dunque e mancabilmente un programma curato e condotto da Claudio Capitini per l'anorme piacere